... Allora, anche quest'anno siamo qui ai feudi con la rappresentanza di Toscano Mutui, un molto noto Stefano Maffei e la new entry, almeno per la serata, Mauro Scaccia. Allora, come sta andando questa serata? Ma essere qui nuovamente è eccezionale perché finalmente si rivedono i vecchi amici, si sta insieme, si riesce a bere del buon vino, si rincontra anche te, abbiamo rincontrato te, che insomma non è da poco, si è incontrato Antonio Dieg, devo dire che per me è sempre una grande emozione essere qui, ad ascoltare le vostre novità e le nostre proiezioni per il futuro. Tra cui c'è anche Mauro che insomma, noi è una new entry qui ma è una new entry anche in Toscano Muti perché con la unit intercessione del Quinto che abbiamo messo in atto abbiamo grandi progetti. Lascio due parole a Mauro. Mauro, allora intanto, visto che è la prima volta, la prima serata che sei qui, come adesso è l'organizzazione, la cantina, visto che abbiamo fatto un bel giro dalla cantina, e poi due parole su quello che può essere lo sviluppo della sessione del Quinto in Toscano Muti che per definizione faceva Muti. Allora innanzitutto grazie, grazie della domanda. Ovviamente la prima cosa che mi viene da dire è che la location è veramente eccezionale. Abbiamo appena visitato le cantine che sono di rara bellezza sicuramente. Ma lasciatemi dire che la cosa più bella in questa serata è rivedere tante persone amiche, tanta gente del nostro mondo che purtroppo non abbiamo potuto vedere per un po' di tempo. Per quanto riguarda invece i nostri progetti, io sono nuovo però ormai sono già due anni che orbito in Toscano Muti, e tutti i progetti che ci eravamo promessi di fare li abbiamo portati avanti e ne abbiamo tantissimi anche per il prossimo futuro, quindi siamo contentissimi di come sta andando. E nei vostri progetti come si va a incastonare EGG? È fondamentale, è il motore per gestire i nostri progetti. È utile anche per le sessioni? Assolutamente sì, è alla base, un buon CRM è alla base di ogni società strutturata. Noi ci proponiamo di essere una società molto strutturata, per cui abbiamo necessità di EGG. Bene, allora io vi ringrazio, non vi rubo altro tempo, vi lascio alla cena e grazie al prossimo anno. Grazie. Grazie.